L'associazione che ci occupa, mi sono portato i conti perché sicuriamoci se mi ricordo a memoria. Ogni sgombero costa 1250 euro a persona. Nei primi cinque anni di Veltroni quindi sono stati fatti 1.600 sgomberi all'anno, 113 al mese e quasi cinque persone al giorno sono state sgomberate, scusate questo qui è il numero delle persone e sono stati spesi circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro. Per fare che cosa? Quello che è stato detto perfettamente prima, per prendere le persone spostate da una parte all'altra della città. La muina borbolica, la città muina. Mi dispiace che voi non c'eravate 15 anni fa perché ci sareste stati molto utili, ma davvero lo dico perché per me è stato molto frustrante perché la maggior parte degli stondri a cui ho partecipato, decine, non vi farò la cronologia perché sennò facciamo notte, come vedete sono stati tanti gli sgomberisti, io ho partecipato a decine di sgomberi in vita mia e la maggior parte degli sgomberi erano senza progetto, quindi le persone venivano spartagliate. Ma, 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 per esempio quegli sgomberati dal cosiddetto Telatrica alla stazione di Burtina sono poi andati in Giacuba, cioè al Baobab. Doveva esserci posto per tutti, in realtà gliel'abbiamo molto raccontato, non è vero, lo sapevamo, ma non c'era posto per tutti. Si dice che quello fu uno sgombero concertato, non è vero, una parte degli Eritrei non volevano assolutamente muoversi e soprattutto i sudanesi non volevano muoversi. Per i sudanesi, dopo tre mesi o cinque mesi di trattativa intensissima, politica, forte, è stato aperto il centro monoettico di Ascolti Capove, un fallimento totale, come tutti i centri monoettici. Io sono contrario ai centri di accoglienza, allora lo sono a maggior ragione adesso. L'altro 15 anni fa facevo questo lavoro, quindi dovevo in qualche modo metterli a punto, ma il mio obiettivo era sempre quello di accordi delle persone senza fissa dimora. Chi ha coordinato queste 8.000 persone che sono state sgomberate? Il vice capo di gabinetto di Veltroni, Luca Odevenna. Personaggio poi noto all'Ettronica. Chi ha aperto la maggior parte dei centri di accoglienza, compreso via Cuba? Salvatore Buzzi e il suo cooperativo. Allora, è un caso indubbiamente, però entrambi sono condannati in primo grado nel processo mafia capitale. Odevenna ve lo ricordo in quello che si vede in video che maneggia quelle mazzettone di denaro. C'è un altro punto, non vorrei che discutisse in questo caso importantissimo. Il governo Berlusconi, di cui Alemanno, che all'epoca era il candidato contro cui Veltroni correva, di cui Alemanno è stato ministro, ha consentito arriv indiscriminati senza regole e controlli alle frontiere. Allora, basta sostituire i nomi e i simboli e i colori, questo qui potrebbe essere tranquillamente un manifesto politico. La Lega no, perché ormai è arrivata, è difficile uguagliare la Lega, visto che sono affeggiorata, ma una quindicina di anni fa la Lega poteva esprimersi in questo modo. quindi da dove viene la crisi? La crisi viene, a mio avviso, viene da qui. Questo è anche le violenze, non è che noi facevamo sgomberi all'acqua di rosa, erano sgomberi violentissimi. Il tema è che a Roma manca da sempre un'idea di città, una politica per la casa e una politica per l'accoglienza, questo è il vero tema. Non dovremmo esserci noi nella sala operativa sociale lì ad assistere a quegli sgomberi, i romei non dovrebbero nemmeno esserci, ci si dovrebbe pensare a priori, questo fa una città intelligente, una città che ha una visione. I nostri sindaci, tutti i nostri sindaci, in realtà pensano in modo transitorio, pensano all'istituzione come un trampolino per passare alla fase successiva della loro perioda politica. se vediamo Mutelli si dimette a metà del secondo mandato nel 2001 per andare contro Berlusconi e perdere, Beltroni si dimette a metà del secondo mandato nel 2008 per andare sempre contro Berlusconi e perdere e regalare la città ad Alemanno. Alemanno è l'unico di marzo che poi invece è stato battuto da Marino e poi il PD ha pensato bene Valentina, io sono meno diplomatica di far fuori Marino. La tua era, tu sei diplomatica, io posso permettermi in questo momento? Io l'ho, perché mi mi allego, lo dico io. Prima di arrivare a delle ipotetiche conclusioni, vi voglio dire una serie di cose, ogni sgombero programmato in sede di tavola per l'ordine della sicurezza in prefettura, il sindaco manda un suo rappresentante o partecipa direttamente, per cui non è possibile che il comune non sappia che c'è uno sgombero. Non è vero, si usa dire, non lo sapevo, per prendere quelle due, tre, cinque ore di tempo, due giorni di tempo per confondere le acque, ma anche lì è una tecnica un po' per fare confusione. Anche noi abbiamo utilizzato la tecnica di rimpati assistiti, e abbiamo utilizzato tantissimo la tecnica di rimpati assistiti che abbiamo, non dico li abbiamo inventati noi, ma penso di sì. C'è una tradizione postcoloniale dall'Algeria. Ah no, 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 io mi invitavo. Facceva la Francia con gli algerini negli anni 50. Io mi ero nominato a questo periodo qua. Valentina diceva una cosa, sembravano terremotati, le persone sgomberane sembrano terremotati. Ecco, io credo che questo qui sia forse la cosa più grave che il governo, che la giunta di centro-sinistra ha fatto contro le politiche sociali, cioè ha trasformato le politiche sociali in politiche di emergenza, perché lì dove la politica sociale è lenta per definizione, perché tu devi prendere in carico una persona. La presa in carico è frustrante, la presa in carico è quasi sempre fondamentale, finisce o con la morte dell'assistente sociale o comunque da questo interno, ma è un lavoro unichissimo, è un lavoro estenuante, ma senza questo lavoro non c'è possibilità di reale presa in carico. Ecco, non siamo stati trasformati di fatto in un ufficio di protezione di città sociale e facevamo altro. Le persone del mio ufficio e della sala operativa, qui c'è uno degli elementi migliori, oggettivamente, hanno fatto un lavoro straordinario, ma sono diventati, siamo diventati una sorta di paraformine. Ecco, io credo che, questo l'avete capito mi sembra che sia molto chiaro, dei mausen delle politiche sociali, perché in realtà mancava esattamente quello che ho detto prima, cioè una politica per la casa. Tutti i centri di accoglienza, tutti i centri di accoglienza sono centri di accoglienza temporanei e come diceva un grande antropologo italiano, Giulio Andreotti, a Roma in Italia tutto ciò che è temporaneo permanente, tutto ciò che è permanente. E non c'è nulla di temporaneo, pensate al campo di Castel Romano, sgombro di Niccolò Salini, è da 2006-2005, li porteremo a stare meglio, abbiamo portati al ventesimo chilometro della via Turna con una, direttamente, cos'era, di Marrasso, non mi ricordo che cosa fece, un'autorizzazione temporanea appunto per la riserva naturale di Castel di Lecce, di Castel Romano e sono ancora lì, anzi il campo è triplicato, che poi ci ha pensato bene Alemanno a peggiorare possibilmente il modello Roma. E però io vorrei, se posso, leggere di che cosa diceva Repubblica nei giorni nello sgombero del passaggio tra di Niccolò Salini e Castel Romano. E questa è una cosa che fa la differenza. Allora, se vai in quella bozzanghera, vomiti per tre giorni, dice Ekemo Amidovic, 17 anni, che racconta un sorriso, il miracolo dell'addio al campo di Niccolò Salini. Il miracolo, dico io, è riferito a Beltroni, perché quelli erano i termini per descriverlo in quel momento. Beltroni dichiarò, l'addio alla favela sarà il punto di partenza per provare a vivere all'italiana, godendone i benefici e rispettandone le regole. È una delle cose più importanti che abbiamo fatto in questi quattro anni. Grazie a dialogo e partecipazione stiamo spostando a 850 persone senza attenzioni. Per noi è un modello nel merito e nel metodo. Ora, vivere all'italiana, chiunque altro l'avesse detto, in Italia sarebbe stato tacciato di tutto, di razzismo, di treni. A Beltroni vi passò tutto, vi passaste, io no, vi passaste tutto. Ora si passa tutto a tutti, è passato all'amnistia generale. Adesso purtroppo è passato tutto a tutti, quindi hai ragione, è peggiorato, hai perfettamente ragione. Dunque, non mi tendo con l'elenco degli sgommi, se no facciamo notte. Nel prossimo tavolo parleremo anche con Enrico Cuccini del problema della cosiddetta emergenza abitativa che non è affatto un'emergenza, è un'emergenza indotta perché ci sono soldi, ci sono intelligenze, ci sono tutte le possibilità perché a Roma queste poche migliaia di persone siano accolte degnamente. La vera emergenza, la vera emergenza è la mancanza di politica. Io però vedo che rispetto a 15 anni fa, lo so che siamo, sembra un paradosso, ma rispetto a 15 anni fa vedo persone e agenzie e istituzioni ben più agguerrite, quindi sono moderatamente ottimista. Cioè il problema dell'emergenza vera è la mancanza di politica. Grazie. Grazie.